Ciao ragazze e ciao ragazzi, nuovo video speciale edizione straordinaria di domenica ve l'ho già annunciato nel vlog che è andato online ieri perchè vi devo fare un annuncio importantissimo finalmente questo benedetto evento di Carlina Dolce che già vi ho accennato da un po' di giorni se seguite i miei vlog si farà un nuovo evento un nuovo... ecco che la lingua si intreccia in quale città d'Italia? Roma non fa la stupida stasera bene si ragazze, nuovo evento a Roma e non vedo l'ora perchè io amo tantissimo Roma è stata già un po' di tempo fa che facevo un evento veramente favoloso e questo sarà veramente fuori dal comune straordinario, fantastico l'evento ci sarà ragazzi, è sabato 12 novembre nel centro commerciale Euro Roma 2 ed è gratuito, cosa importantissima cioè non si paga nulla, potete venire tutti femmine, maschi spesso mi scrivete ma posso venire accompagnata da mio padre oppure dal mio fidanzato posso portare mia mamma, posso portare mio figlio potete portare chiunque anzi più siete e meglio è ci divertiamo tantissimo cosa importantissima, ci sarà anche mia sorella ovviamente come sapete lei mi accompagna ovunque verrà anche lei all'evento quindi potrete salutare e conoscere non solo me ma anche lei spero che vi faccia piacere che viene anche Nancy voi sapete io ci tengo tantissimo a incontrarvi nelle varie città d'Italia un po' ovunque però ci tengo tantissimo affinché tutto sia organizzato per bene, che tutti dovete rimanere contenti perché io vi voglio abbracciare tutti uno ad uno finalmente ho trovato una buona location perché finora avevo avuto delle proposte ma non mi soddisfacevano finalmente sono felice di annunciarvi che ci sarà il nuovo evento in un centro commerciale quindi ci sarà posto per tutti ci saranno regali, omaggi, ci sarà una festa fantastica e passeremo un pomeriggio fantastico assieme quindi sono stra felice e ringrazio tantissimo Apiarium che è questa linea di cosmetici che hanno lanciato prodotti biologici certificati bio quindi hanno scelto me appunto per fare questo evento ovviamente io sono super mega felice di questo ma soprattutto sono felice perché oltre al fatto che sarà un evento fatto bene con molto spazio in un centro commerciale sarà un evento con una marca che a me piace tantissimo perché infatti già avevo parlato di questi prodotti in un vecchio video sui prodotti preferiti non so se vi ricordate che ho mia sorella avevo parlato di questi prodotti che mi avevano stracolpito perché avevo parlato di una crema corpo alla vaniglia sapete che è un profumo alla vaniglia che si era fregata mia sorella infatti non me l'ha più ridato quindi questi prodotti a me piacciono veramente veramente tanto quindi sono felice di aver trovato tutta una combinazione di cose che mi rende estremamente felice però in primis ringrazio Apiarium perché mi dà la possibilità di incontrarvi e per aver organizzato un evento che sarà veramente fantastico veramente organizzato bene che quindi già so che rimarrete tanto tanto contenti quindi venite se siete piccine fate accompagnare dal papà dalla mamma se siete grandi con i vostri figli con le sorelle con le amiche fidanzati papà maschi insomma chiunque con la nonna con tutti venite perché vi fa estremamente piacere non si paga nulla ovviamente io lo dico però mi sembra scontato però lo dillo specifico siete tutti invitati non si paga nulla anzi siamo noi a ringraziarvi con omaggi verranno anche sorteggiati appunto alcuni prodotti che adesso vi faccio vedere ci sarà una giornata di sconti su tutti i prodotti perché Apiarium questo negozio non vende solo la loro linea di prodotti ma vendono anche altri prodotti di altre marche di altre marche di trucchi e cosmetici biologici quindi ci saranno sconti su tutti i prodotti saranno regali omaggi a tutti omaggi campioncini a tutti quindi venite nel centro commerciale Euro Roma 2 in via Cristoforo Colombolo Angolo via Oceano Pacifico comunque leggete anche nel box informazioni perché vi le scrivo perché sapete che quando sono emozionata non riesco a parlare al primo piano del centro commerciale Euro Roma 2 c'è il negozio appunto Apiarium quindi ci metteremo nel negozio e c'è tutta un'area riservata quindi c'è tantissimo spazio che è tutto riservato a noi per quella giornata ci saranno delle promoter che faranno provare i loro trucchi sarà insomma tutta una giornata di feste ci saranno sconti tutto il giorno su tutti i prodotti sarà una giornata all'insegna del bio fantastica non solo per incontrare me ma proprio se siete amanti del bio, dei prodotti naturali, del make up naturale venite perché sarà bello veramente nel pomeriggio arriverò io precisamente arriverò alle ore 16 ma come vi ho detto anche se arrivate prima non vi annoierete perché ci saranno tante cose da fare e da vedere già dalla mattina appunto nel negozio io comunque vi aspetto alle 16 venite venite veramente perché non vedo l'ora di incontrarvi ci saranno anche dei giochi per regalare dei premi insomma sarà fatto tutto bene e ovviamente parleremo del bio parleremo di tutti i prodotti biologici parleremo di tutto quello che voi volete mi potete fare tutte le domande che volete voi ci potremmo abbracciare, baciare potremmo stare assieme e parlare sarà veramente fantastico io non vedo l'ora di incontrarvi inoltre potrete ricevere anche un codice sconto del 20% che sarà inviato tramite mail per utilizzarlo sul sito comunque leggete in box informazioni che mi metto tutte tutte le informazioni che vi servono per farveli vedere mi hanno mostrato questi qua ma è una linea grandissima con tantissime fragranze super profumate vi dico solo che questo pacco me l'ha portato mia sorella perché è arrivato a casa di mia mamma e la sua macchina è tipo da una settimana che profuma non ha mai profumato così tanto perché c'erano questi prodotti e sono troppo belli sono super profumati e sono bellissimi e poi ci sono tutti questi pack troppo carini con le etichette a me piacciono tanto, sono troppo simpatici c'è questa crema corpo biologica pesca e pompelmo ce l'ho da pochissimo eh quindi non è proprio una recensione approfondita poi magari più in là vi farò anche un'altra recensione pesca e pompelmo crema corpo biologica è fantastica ragazzi odora di gelato alla pesca cioè una roba che ti manda fuori di testa io ho già dei vecchi prodotti me ne ero innamorata me li sarei voluti mangiare e adesso praticamente mia sorella già mi sta supplicando per avere qualcosina questo invece è uno scab corpo fiori di iris sono tutti completamente naturali ragazzi è una roba floreale questo profuma tantissimo di fiori è caduta una goccina d'olio me la sto spalmando sulle gambe è fantastico mmm troppo bello poi infine questo qua che è il bagno schiuma cedo e paciuli di agnodoccia biologico è molto molto carino con questa immagine dell'uomo e della donna sono carine anche le etichette sono carine e profumo anche questo è veramente bellissimo poi adoro il paciuli quindi ragazze cosa dirvi io vi aspetto veramente numerosissime ragazze e ragazzi venite da Roma ma anche dai dintorni potete venire da qualche città limitrofe venite perché sarà una bellissima giornata avremo l'occasione di stare assieme e di vederci io veramente vi vorrei abbracciare tutti sapete che adoro fare gli eventi con voi quindi ovviamente vi aspetto numerosissimi venite dalle città limitrofe venite da dove volete voi però venite perché io vi aspetto e vi voglio abbracciare non vedo l'ora di vedervi sono stra felice perché finalmente ci sarà un nuovo bellissimo evento fantastico con dei prodotti che mi hanno colpito dall'inizio con voi potete venire tutti perché veramente la location è molto spaziosa quindi sicuramente staremo benissimo vi ho detto viene anche mia sorella quindi non vediamo l'ora di incontrarvi il 12 novembre sabato pomeriggio io ci sarò alle 4 nel negozio vi aspetto mi raccomando fatemi sapere nei commenti se ci sarete se avete dei dubbi quindi leggete prima di tutto l'info box e poi lasciatemi qualsiasi domanda nei commenti o vi risponderò prestissimo Roma vi aspetto non vedo l'ora sono al settimo cielo veramente questa è una felicità grandissima vi mando un bacio grande ciao iscriviti al canale